Buonasera ragazzi, benvenuto allo studio di Stato dell'Arte, oggi con Alessandro Di Gregorio, ciao, nuovo singolo per lui, benvenuto, fit con Luciano Bottaro, nuovo singolo, duetto, raccontatemi come viene questa storia, come inquadrate questo brano. Mi inquadro questo brano, ho chiesto a Luciano di avere un duetto con lui, poi conoscendo Alex D'Ambra, l'autore, mi sono ispirato su una storia di due fratelli, fratelli amici, che si litigano per una ragazza, dicendo che per lui è una femmina sbagliata. Ho capito. Cioè che sono io quello che sto sbagliando e non mi dà consigli a me. Testa e musica, Alex D'Ambra, Arrangiamente di Raffaele Gottardi, che salutiamo, Rec Mix & Mastering, ciao ragazzi allo studio dell'Arte. Presto fuori, presto fuori, nuovo singolo. Tutto a questa e musica Tu ha deciso di rovinare Io non consiglio sai da mozzerà Fammi vivere la vita mia Adesso amo solo lei Niente ma può fare una E' proprio per questo Dato di Perché voglio mangiare Non fa la stessa fine mia Non dico Mi dispiace per te Ma non sta insieme a me Va bene Un bacio prossimamente Per una femmina sbagliata Distribuzione sia musica Ciao a tutti Buona serata